...una compression di giochi crumetti con tanti eventi, cornelli, dimostrazioni di gioco da favore, miniatura e carte collezionale, working e di ruolo. E c'è anche una monta di mercato di tutti i altri che non riuscite a lasciare... ...giunti a Mantua! ...per domani... ...diamo arrivare... ...diamo arrivare... ...ma diciamo oggi invece che cosa possono fare tutti, prima che abbiano visto... ...diamo arrivare a Roma nel contatto...